Nella giornata di ieri sono stati pubblicati i primi due bandi di concorso della Regione Campania che assegneranno 2.175 posti di lavoro per 10.000 assunzioni a tempo indeterminato. Il primo bando per titoli ed esami prevede l'assunzione di 950 posti di personale non dirigenziale categoria D a tempo indeterminato. Di questi 328 posti saranno assegnati presso la Regione Campania, altri 15 presso il Consiglio regionale della Campania e 607 presso altri enti locali della Regione. Il secondo bando per esami prevede la copertura di altri 1.225 posti a tempo indeterminato, di cui 187 posti presso la Regione Campania, altri 18 posti presso il Consiglio regionale della Campania e restanti 1.020 posti presso gli enti locali della Regione stessa. Le domande inoltrabili online dovranno completarsi nel termine di 30 giorni a partire da oggi. Solo in seguito verranno pubblicate le informazioni sul dove e quando si terranno le prove preselettive, con annesse indicazioni delle modalità di pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi alla successiva fase selettiva scritta, nonché delle informazioni relative a modalità e tempi del suo svolgimento. Nei bandi di concorso pubblicati sono disponibili le informazioni per inviare le candidature, i requisiti per partecipare ed i tempi del concorso stesso. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della Regione Campania.